Circolavano con furgone isotermico adipito al trasporto locale di surgelati congelati di natura ittica, con veicolo non idoneo al mantenimento della temperatura. Questo è quello che è emerso dagli accertamenti effettuati dal personale della Polizia di Stato, sezione Polizia Stradale di Crotone, a seguito di un controllo effettuato da una pattuglia nei confronti di un furgone per trasporto di alimenti in torretta di crucoli. Gli operatori notavano un'inclinatura e parziale rottura della guarnizione inerente alla chiusura del portellone laterale destro, dalla quale fuoriusciva l'aria refrigerata, non garantendo così il corretto regime di temperatura controllato di meno 18 gradi. Nello specifico, all'atto del controllo, veniva accertata da personale dell'ASP di Crotone, giunta sul posto in ausilio, la temperatura all'interno del cassone isotermico di meno 7 gradi. Tale attività si innesta in uno più ampio monitoraggio, che la sezione Polizia Stradale di Crotone costantemente effettua lungo le principali arterie della provincia, anche al fine di verificare la corretta circolazione sui veicoli adipiti al trasporto di sostanze alimentari. Grazie a tutti.